musica wey non è andato non è andato wey bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi nonostante vi abbia già caricato poco fa un video che faceva vedere dove atterrare ce n'è un altro nelle sfide di spetto di miascolo dobbiamo ragazzi come ci dicono le sfide visitare baia del naufragio lo yacht e stagno flopper ve le faccio vedere aprendo la mappa ragazzi la baia del naufragio è proprio questa quindi in basso a destra nella direzione h7 lo stagno flopper invece è questo ragazzi nella direzione c5 e invece lo yacht è inutile che ve lo spiego è proprio lo yacht nella casella h1 quindi andate visitatele completate la sfida e portatevi a casa 40.000 punti esperienza io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo in live sulla piattaforma viola ciao